Un caro saluto a tutte e a tutti. Oggi parliamo di edilizia. I sindacati confederali di CGL e Cislewil del settore dell'edilizia hanno iniziato uno stato di agitazione, di mobilitazione. Si terranno assemblee con i lavoratori e incontri con le istituzioni locali, con le prefetture. Il tutto sfocerà il 15 di marzo a Roma in una manifestazione nazionale. Che cosa si chiede? I sindacati chiedono il rilancio del settore. Qui vale la pena di fare un punto. Che cosa è successo dall'inizio della crisi, dal lontano 2008 ai giorni nostri nel settore dell'edilizia? Beh, è successo che sono stati persi circa 600 mila posti di lavoro. Il che vuol dire la scomparsa di circa 120 mila aziende. Un dato enorme, un dato preoccupante. Come far riprendere quindi l'attività, l'economia? Non bastano le misure assistenziali. Abbiamo visto che la nostra ultima legge di bilancio ha una proporzione, uno squilibrio tra quello che viene dato in termini assistenziali e quello che viene dato in termini di investimenti. Il sindacato chiede investimenti. Una politica, diciamo, keynesiana. Perché altrimenti senza investimenti un settore così importante rischia l'estinzione se non c'è una programmazione, una politica industriale per incrementare l'attività del settore. In primo luogo, credo che il governo debba rispondere su un punto. Il punto è quello del destino degli investimenti per quanto riguarda le grandi opere. Non possiamo continuamente oscillare fra il sì e il no e le indagini continue che rimandano nel completamento di opere come la TAV, la TAP, il Terzo Valico, che sono fondamentali. L'avvio e la continuità di queste iniziative e di queste attività è anche una garanzia di sviluppo e di occupazione. Una risposta di cui il Paese sente davvero il bisogno.